Il Comune dell'Aquila verserà 300.000 euro per le annualità 2023-2024 e 150.000 euro per il 2025 all'ASBUC di Assergi. Previsto inoltre un investimento da un milione di euro in opere pubbliche che verranno condivise con l'amministrazione separata. È l'accordo raggiunto tra il Comune dell'Aquila e l'ASBUC di Assergi per i canoni dei terreni gravati da uso civico. Un atto di portata storica, ha commentato il Sindaco, che pone fine ad una vicenda che si trascinava da oltre un decennio e che pone solite basi per la valorizzazione del Gran Sasso. L'addendum è stato approvato dalla Giunta Comunale ed è relativa al canone d'occupazione di una serie di terreni situati sulla montagna aquilana sui quali insistono attività ricettive, nonché la funivia e gli impianti di risalita della stazione sciistica. In base all'intesa raggiunta nel 2010 tra Comune e ASBUC da Assergi, ha proseguito il Sindaco, l'ente avrebbe dovuto, in cambio della concessione per 99 anni di particelle diamagnali gravate da uso civico, corrispondere una somma che non è mai stata versata. Oltre ad aver sanato una lacuna, l'ennesima ereditata dal centro-sinistra, è stata approvata un'intesa che ritengo possa soddisfare tutte le parti in causa che, responsabilmente, hanno individuato un punto di caduta in nome dell'interesse generale. Un'approvazione accolta positivamente anche dal consigliere delegato alla montagna, Luigi Faccia, che ha dato un contributo sostanziale affinché si procedesse alla ratifica dell'accordo. La vicenda, ha detto Faccia, ebbe inizio nel 1985 con la realizzazione della nuova funivia, anno in cui ero presidente degli usi civici. La definizione a cui si era giunti nel 2010 per chiudere un contenzioso pluriennale non ha avuto mai attuazione concreta, che oggi, invece, ha concluso il consigliere delegato alla montagna, salutiamo con grande favore.